Cos'è abitare l'emozione per Sonia Vizzini? E' abitare in un luogo che non è conforme alle moda, ai tempi, a quello che propongono gli spazi commerciali, tutte le sollecitazioni che ci vengono dal mercato e che invece può andare al di là delle mode, del tempo, del momento storico, rappresentando le caratteristiche più intime della persona. Tra l'altro questa è un'esperienza personale che viene presentata per la prima volta in un libro qui a Torino al Circolo dei Lettori. Sì, io sono torinese, anche se ormai vivo e lavoro molto anche a Milano. Ci tenevo che questo libro, che è il mio primo libro, fosse presentato nella mia città. Nasce dall'esigenza di rispondere un po' a tutte le mie amiche o a tutti coloro che, invitandomi a casa loro, mi dicono guarda che bella casa che ho fatto e non sono neanche architetto. Io, ahimè, devo sempre o abbozzare un sorriso e confermare la tesi, oppure devo mettere in mostra il mio brutto carattere e quindi dire che cosa penso. Quindi il libro in effetti è nato con questo scopo e viene presentato per l'appunto a Torino al Circolo dei Lettori. Il numero 7 che cosa significa? 7 è un numero magico, è un numero della Kabbalah e 7 sono i comandamenti, 7 sono i giorni della settimana e 7 sono anche i miei insegnamenti per potervi rendere autonomi in una progettazione del vostro luogo di vivere quotidiano, che potrebbe essere la casa, l'ambiente dove lavorate. Sono sufficienti per darvi qualche insegnamento. In conclusione cosa significa nell'ultimo capitolo quando si parla della costruzione della casa del padre? Beh, la casa del padre è un progetto a cui tengo molto e è ancora in una fase in cui non vi posso ancora dire molto. È la casa da cui tutti noi partiamo e a cui tutti noi arriviamo. È la casa del nostro padre che ci dà i Natali e che ci segue durante la nostra vita. In un momento così complesso come quello che stiamo vivendo, anche economicamente, noi abbiamo bisogno di ritrovarci intorno ad un'unica casa, ad un unico grande complesso, che è la casa del Signore, fatto di valori ma fatto anche di aiuto concreto sul territorio alle persone. Quindi si comporrà dell'edificio religioso, degli oratori, delle aule di formazione scolastica, dei laboratori, di un nuovo modello di hotellerie destinato alle fasce deboli che si spostano per lavoro, come le donne, ed è il progetto a cui io dedico questo libro, perché il ricavato della vendita del libro confluirà per l'appunto in un trust onlus che verrà sostenuto da un grosso gruppo bancario e che si occuperà appunto della progettazione della casa del padre. Ma questo è un altro capitolo.